Grazie per questo invito, grazie Eugenio, è un grandissimo piacere essere qui oggi. Ho scordato con moltissimo interesse, ragazzione, di Eugenio su tutti questi passi in avanti, incredibili, fatti in così grande tempo. È emozionante vedere la forza della cultura al lavoro, la forza della ricerca, la forza delle buone idee. E' un piacere essere qui con tanti amici, con Carlo Rubbia, con Nando, con Profumo, con il sindaco Celente e con tanti altri amici di LFM. Quello che vi racconterò oggi è un punto di vista diverso che è permesso dal fatto che siamo circondati dallo spazio, possiamo andare nello spazio e dallo spazio possiamo avere molti di vedere il mondo, diversi. Per quello che siamo abituati, mentre sentivo raccontare i progressi del GSI, pensavo che quello che sto per raccontarvi in qualche modo è fortemente collegato a quello che state facendo qui all'Aquila. Lo spazio, infatti, dà l'opportunità di cambiare il sistema di riferimento. E' come guardare le rovine dell'Aquila e pensare a cosa che facciamo, e pensare di vestire nelle persone e nella cultura piuttosto che semplicemente solo rimettere assieme i pezzi dei corci che si sono ronti. E' uno spazio che sistematicamente permette di guardare alla nostra realtà da un punto di vista diverso. Per esempio, questo puntino sullo sfondo del cielo. Noi siamo qua. Questo puntino dov'è? Chi l'ha presa questa fotografia? Vedete, non siamo proprio nello spazio, ci sono delle montagne sullo sfondo. Noi siamo lì. Quella è la Terra. Chi è che può aver preso la Terra rendendola un puntino su uno sfondo appena visibile? Beh, siamo su Marte. Sono i telescopi di Opportunity, di Curiosity, che alzandosi dai sassi che guardano intorno a sé, hanno puntato quel puntino nel cielo, quella è la Terra. La Terra è il cielo davanti, è un non nulla che però per noi è tutto. Altre cose dello spazio sembrano diverse. Guardate questi micrometeoriti che entrano nello spazio dell'atmosfera, nell'atmosfera dallo spazio. Quando siamo il 10-11 di agosto abbiamo le famose stelle cadenti, notte di San Lorenzo. Sono questi bulbiscoli. Sono partitele di ferro tipicamente, di un millimetro al cubo, che entrando a 40 km al secondo, ha un'energia di metto joule, lasciano delle strisciate che noi vediamo dal basso come lunghe strisce e dall'alto appaiono come queste pomete. Hanno la stessa energia di un protone di altissima energia. Infatti qualcuno sta studiando il modo di studiare queste particelle di protoni, non necessariamente le mette in ultimi meteoriti, e appaiono dallo spazio dove appaiono in modo molto diverso a chiudere la Terra. Ma come si fa di andare allo spazio? Beh, per esempio abbiamo costruito, un uomo ha costruito nel corso degli ultimi vent'anni lo sforzo tecnologico più grande che la humanità l'ha mai realizzato, molto durante le piramidi, per complessità, per costo, per difficoltà. È la Stazione Spaziale Internazionale. Questa non è un disegno, un'immagine, un'immagine vera di un laboratorio di un campo da calcio che ospita sei astronauti, attualmente abbiamo anche l'italiana Samantha Gustoforetti, che da pochi giorni opera per una lunga durata, e all'interno di questi tubi di interconnessione, di questo grosso lego per grande buon campo da calcio, abbiamo un posto di uomini che vivono 24 ore al giorno, giorno per giorno, da anni allo spazio, ormai per gruppi di sei mesi, durata di sei mesi, e da lì possiamo, tra le tante cose, guardare la Terra. Guardiamo come la Terra appare, se vista dalla stazione spaziale. Io parlo in italiano, scusatemi, va bene come lingua per gli studenti? Spero di sì. Should I switch to English? Le mani ci parlano solo. Ok, the images will go for themselves. Ok, quindi vado per l'italiano. Vi mostrerò alcune sequenze di immagini che mostrano una Terra d'Iva. Sono immagini prese ogni 30-40 secondi. Sono accelerate, qui vediamo chiaramente l'Africa, con tutti i lampi dei terreni, del Nilo, Israele, passiamo verso la Russia. La parte verde sullo sfondo è lo strato dell'atmosfera ed è verde a causa di tutti quanti i fenomeni di aurora boreale. Ne vedremo parete di aurora boreale, questo mi indirisce una. Sono video accelerati, quello che vediamo qua in un minuto ci mette circa un quarto d'ora, venti minuti, quindi non tantissimo accelerati, ma abbastanza per rendere gradevole la vista di una Terra colorata, vivace, in continuo movimento. Le aurora boreali sono delle strisciate, che si muovono, si muose nel campo magnetico. Chiunque al viso della Terra vede un bel cielo di colore verdastro. In realtà la dinamica è molto complessa, ha parecchi colori, ha una parte verde, ha una parte rossa. Guardate la parte rossa, i visibili della Terra, sono diversi stati ionizzati, il plasma, il gas, a diverse altezze, il bombardamento degli elettroni creano queste incredibili immagini che naturalmente dalla stazione spaziale vengono osservate, ammirate per delle ore. Gli astronauti da lì vedono un film, altro a Guerra Stellare, altro che a effetti speciali. Questo è il nostro pianeta, visto da un punto di vista diverso. Ecco un altro esempio in cui si vede perfettamente la parte rossa dell'errore boreali, in uno sfondo abbacinante di stelle. la Via Lattea è visibilissima in tutte le sue componenti. Contemporaneamente l'occhio è in termina fotografica per vedere la Terra, illuminate in questo caso dalla Luna siamo di notte, la stazione spaziale, le stelle, il colore del bordo dell'atmosfera. E se noi camminiamo attraverso la costa dell'Ovest dell'America, ecco la California, si riconosce, spesso a questo te letto, un altro, no questo è un altro, qui torniamo invece in Europa, ecco l'Italia vista dall'alto, con la sua caratteristica stivale, assolutamente inconfondibile, è un posto veramente bello in cui vivere. E qui vediamo come nello spazio non solo tramontano 16 volte al giorno tutte le stelle, il sole in particolare, ma anche le comete, vediamo il sorge di una cometa, questa è una cometa che da Terra si vede alla pena dallo spazio era visibilissimo allo sfondo delle stelle. E questo ne vediamo delle altre, sempre la stessa cometa, guardate come sono forti le stelle, mentre sotto si vede la Terra con le città illuminate, la Galactia con estrema intensità, con tutte le sue strutture e questa gigantesca cometa che sorge al di sopra di una atmosfera stratificata e con la presenza del perenne colore verdastro delle aurole boreali. Questi lampi sono chiaramente i fulmini di tutti quanti i temporali che via via sono visibili sulla terra. Andiamo alla prossima. qui è un insieme di temporali qualche incendio il Nilo il sorgere della via Lattea il sorgere della cometa tutto questo 24 ore al giorno 16 volte al giorno tutte le volte che cade la notte è visibile dalla stazione spaziale limitante. Questo invece c'è un'altra visione comunque siamo sulla parte occidentale da quante città si possono vedere l'America e questo è una lunga corsa che parte dall'America del Nord come dicevo prima vediamo San Francisco la California vediamo la California con quel braccio quella finita la molto caratteristica scendiamo ci sono un sacco di temporali arriviamo nel Messico si stringe l'America e poi si raddava l'America del Sud che è messa un po' storta e dopo parecchio tempo ci riappare nella sua lunghissima propaggine a sud della terra del fuoco con la bordo delle montagne che fermano le nuvole e l'Argentina che scende scende fino in fondo fino in fondo non finisce mai questo dello spazio come appare realmente la terra e qui viviamo bene questo è possibile al giorno d'oggi con le tecnologie che l'uomo ha sviluppato sviluppate in un tempo brevissimo le cose in cui vi ho mostrato sono in fatto tecnologie di 30-40 anni le scoperte fisiche che l'hanno rese possibile di dati non da venire un po' di poi ma la tecnologia che ha permesso di andare nello spazio sappiamo ha poco più di 50 anni e in 50 anni sono successe queste cose incredibili bene io quando voglio raccontare quanto velocemente si sta sviluppando la tecnologia e quindi quanto è importante che noi non si perda il treno della cultura della ricerca e porto questo esempio la cometa parliamo tanto della cometa per poco parleremo di nuovo della cometa di Rosetta ma la cometa è qualcosa di presente da sempre nella nostra cultura nella nostra storia nel 1904 Giotto dipinge gli scodemi e riproduce una cometa apparsa in quel periodo nel cielo infatti è particolarmente brutta Giotto era un grandissimo era un genio nella pittura faceva dei quadri meravigliosi dei dipinti meravigliosi aveva perfino inventato la prospettiva anche Brunelleschi guardate questa bellissima capanna e fa questa bruttissima stella coneta perché? perché l'aveva vista in cielo Giotto copiava la natura con precisione non si è inventato la stella con la corda che compriamo al supermercato aveva visto la coneta di Halley che passava nel cielo in quel periodo ed era visibilissima e l'ha copiata passano sei secoli le prime fotografie dell'inizio del secolo scorso hanno permesso di fotografare per la prima volta nel 1910 la cometa di Halley in uno dei suoi passaggi successivi passano 76 anni la sonda Giotto non a caso porta il nome del pittore riesce ad avvicinarsi alla cometa di Halley a rilascio a poche migliaia di chilometri a prendere delle immagini e trasmettere sulla terra 76 anni siamo nel 2014 tutti quanti sappiamo che sulle comete adesso ci atterriamo sei secoli per passare dall'avvittura la macchina fotografica 76 anni la macchina fotografica non si crede che si avvicina un'altra trentina d'anni per poterci atterrare questa è la velocità con cui si sviluppa la scienza la tecnologia di oggi parlando di urban studies tutto questo è possibile perché si sono formati queste grandi grandissime città in cui la gente passa il suo tempo non solo a coltivare non più a coltivare l'agricoltura e a sviluppare gli animali per mangiarli ma sostanzialmente a fare lavori tra le regolette inutili da qui dipende la totalità dello sviluppo e dell'economia e del progresso e sta continuando un ritmo formidabile ormai il mondo è globale presentando un'unica realtà il ritmo a meno di catastrofi sarà sempre più rapido e le attività come per le GSSI vanno proprio nella direzione di fare parte di questo grande sforzo bene cosa ha fatto l'agricoltura perché è una cosa che ha così colpito la fantasia e l'immaginazione di tutti quanti beh innanzitutto c'erano 12 anni di viaggio nello spazio con un preciso obiettivo andare a chiappare un non nulla nel vuoto assoluto il non nulla è una piccolissima cometa brutta come poco un insieme di sassi attaccati casualmente grazie a un modo molto intelligente di sviluppare l'orbita passando una serie di assist sulla terra per dare la spinta necessaria a Rosetta che si portava a bordo a un certo punto siamo riusciti Rosetta è riuscita a entrare un altro assist nell'orbita della cometa che intanto faceva i suoi giri uno in 6-7 anni ecco che passa la cometa nel frattempo Rosetta con la spinta giusta sta per entrare col terzo gravi di assist incomincia l'insediamento finale siamo nel 2010 l'insediamento finale continua 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 inarrestabile va in ibernazione nel 2011 rimane ibernata fino al 2014 si risveglia da sola senza alcun comando e incomincia ad avvicinarsi negli ultimi 100-200-300 km e a questo punto è stato in altri giorni ad agosto arriva nelle prime foto della cometa e a novembre arriva il famoso atterraggio bene che cosa è successo prima di tutto Rosetta si è avvicinata alla cometa a distanza di divisibilità la cometa è un sono due sassi attaccati ghiaccio e roccia polvere che gira in questo ritmo velocemente vedete che passa il tempo 15 ottobre l'orbita 19 km sono orbite finte queste non sono orbite nel senso di utoniano la gravità della cometa sostanzialmente è inesistente per cui sono orbite stranissime in cui continuamente vengono dati dei comandi viene aggiustato il tiro per obbligare la sonda a girare intorno a un oggetto che di fatto non attrae praticamente niente è l'orbita di una mosca impazzita di una tanzara di un insetto sono orbite triangolari orbite quadrate orbite fatte dall'uomo a 500 milioni di chilometri distanza dalla Terra bene questo è durato circa un mese e mezzo avvicinandosi e avrottanandosi a un certo punto nell'ultimo periodo poco prima del lancio si trasferisce a un'orbita di circa 20 km guarda la complicità di queste orbite e a quel punto viene lanciata come un sasso che viene lanciato diritto senza gravità non ci sono parabole viene lanciata file e questo file che inizia a cadere a velocità di un metro al secondo un metro al secondo è la velocità con cui camminate grosso modo e quindi fate cadere file verso la direzione a un metro al secondo ricordatevi questa è la fotografia vera del pianeta della cometa ricordatevi che la velocità di fuga in queste condizioni è 08 metro al secondo quindi la situa giù leggermente più veloce di quanto sia la velocità di fuga se la se file fosse rimbalzata senza dissipare energia l'avevamo persa perché aveva una velocità più alta di quella di fuga in realtà era pensata in questo modo l'atterrato questa è una ricostruzione veniva staccato file che è un oggetto grande con una piccola scrivania a velocità di un metro al secondo avrebbe dovuto andare verso la cometa nelle vicinanze della cometa avrebbe aperto le sue zampe le zampe sono dotate di alcuni vigi che entrano nel terreno una volta che il contatto sia mantenuto vedete che entrano nel terreno ma il contatto deve essere garantito da due arpioni e da una controspinta di un razzo che l'avrebbe schiacciata contro la superficie e al tacco del successo gli arpioni del razzo non hanno funzionato essa era atterrata l'assorbimento degli stantuffi delle gambe hanno assorbito tre quarti dell'energia a disposizione e quindi il ribalzo che hanno fatto era di soli mezzo metro al secondo al di sotto della velocità di flora e quindi ha fatto una cosa incredibile ecco che arriviamo fotografato da Rosetta alle 15.14 19.23 mentre si avvicina alla superficie arriva al punto di contatto la foto presa alle 15.43 mostra un'impronta che alle 15.18 non c'era quindi ha toccato in quel punto si è rialzata pesa 100 kg di file ma in quel contesto pesa come un grammo è un foglio di carta che è sceso ha sbattuto ha rimbalzato ha fatto un secondo salto che è durato quasi due ore lentamente si è alzata di quasi un chilometro ma la sua velocità di fuga era più di velocità a più punta era più bassa di quella di fuga è rimbalzata una seconda volta e poi si è incastrata nel nostro cratere da cui ha incominciato a fare le sue misure una cosa che ci diciamo sempre all'esa è che questo modo di atterraggio a rimbalzoni era quello inizialmente concepito dagli scienziati poi sono arrivati gli ingegneri che hanno detto non funzionerà mai occorre l'arpione occorre la controspinta abbiamo messo l'arpione e la controspinta non hanno funzionato e grazie al cielo l'assorbimento degli scantuffi delle zambe distite ha permesso un ralentamento sufficiente che al terzo rimbalzo è rimasta traccata la comune un pezzo di fortuna in una missione difficilissima bastava poco e avremmo perso il momento magico dell'atterraggio sulla comune e questa è la foto che va in giro di tutto il mondo in cui incastrate in questo crepaccio ancora la stanno cercando non si capisce bene dove sia perché è un puntino in una zona d'ombra non è facile riferarla però ha permesso nelle 62 ore che ha lavorato e ha preso dati sulla polvere sulle immagini intorno a sé ha preso questa immagine che arriverà nella storia e poi c'è la zampa di file non si capisce bene se è appoggiato oppure no alla superficie mentre fotografa questo pezzo di roccia orribile in avanti di uno dello stesso tempo che accompagnerà per i prossimi 100 mila o milioni di anni perché inoltre è rinastrata in una zona molto stabile della comenda probabilmente nessuno più la porterà via e chissà magari tra qualche mese dovrebbe anche risvegliarsi bene ci siamo andati sulla zona spaziale a 500 milioni di chilometri adesso vi porto molto 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 più lontano vi ricordate Carl Sager e Blue Dot a un certo punto una delle missioni Viking che sono delle missioni che portano dei satelliti al di fuori del sistema solare in periodi molto lunghi lui chiese alla NASA di fare ruotare il Space per puntare alla Terra e prendere una fotografia da 6 miliardi di chilometri quel puntino quel Blue Dot da cui il famoso titolo come dico di Seger è la Terra vista da così lontano nessuno ovviamente potrà fare una foto del genere se non qualcuno che si sta allontanando al per sé del sistema solare bene questa dimensione così spaventosamente grande 6 miliardi di chilometri la velocità della stella di vicina potrebbero 200.000 di anni non c'è modo ad oggi con le nostre tecnologie che la nostra conoscenza della fisica ad andare così lontano in tempi confrontati tutta la nostra vita ma l'uomo è molto intelligente è una sorgente inesauribile di veri e dove non può andare però può guardare può guardare molto lontano cercare i pianeti intorno alle stelle anche le stelle molto lontane dell'altra centavola che è la più vicina per esempio nella costellazione chiamata Gliese 1881 una delle centinaia di milioni di costellazioni di stelle con pianeti intorno ad esse sta a circa 20 anni luce da noi quindi raggiungibile sono riusciti con le tecniche contemporanee a osservare che è un sistema planetario che è formato da 1, 2, 3, 4, 5, 6 pianeti di cui 1 in 500 tecnologie ha le caratteristiche adatte a essere simili alla Terra che cosa vuol dire che nel grafico distanza dalla stella massa dalla stella sta in questa striscia blu che è chiamata la zona di abitabilità vedete che la Terra è solo in questa scala verticale sta proprio nella zona di abitabilità Marte ci sta abbastanza dentro ma attualmente ha un effetto serra che è la regione abitarile sta fuori infatti sappiamo perché bene il gliese blu sta proprio al centro della zona abitarile vuol dire che l'acqua è liquida quindi potrebbe esserci poterlo essere in condizione della vita capisco l'interstella capisce di cosa sto parlando dei tre pianeti c'era uno solo che era tra virgolette forse abitabile bene oggi i pianeti extrasolari exoplanet ne scopriamo migliaia e migliaia alla settimana di pianeti terralai che ne abbiamo già alcune decine la velocità con cui procedisce questo settore sarà parassi che fra Brenna aveva centinaia di migliaia e la finezza con cui abbiamo le atmosfere di questi pianeti così lontani con tecniche da capogiro però è sostanzialmente una sana solida sofisticata astronomia del ventunesimo secolo ci perdono di capire che cosa c'è nelle atmosfere di questi pianeti e chi lo sa a quali sorprese riusciremo ad arrivare a la a a a Grazie a tutti